Buon pomeriggio amici ascoltatori, da Carlo Bellotti un caloroso benvenuto al Trastevere Stadium in Roma. Terza giornata di Serie D, girone F il Trastevere, ospita il Termoli, padroni di casa con quattro punti dopo le prime due giornate, ospiti ancora fermi a quota zero. Quadra ospite, Romano sposta la sfera, va via un avversario, poi l'appoggio e il cross, deviazione in area di rigore, alla fine Santo Vito senza grossi problemi, ma ancora Termoli in zona d'attacco, Cervoni a fare la pressione, la finta qui splendida, con l'1-2 con Romano, ancora Carnevale in area di rigore, alzato il pallone, colpo di testa. Pallone passa ed è in controllo del numero 7 in maglia bianca, 1 contro 1 per Bertoldi, sul secondo palo Tortolano, stop di petto, Tortolano alto sulla traversa, si dispera il numero 10. Schiamancini, va Tortolano sul secondo palo, colpo di testa a liberare, arriva Briatico che rimette verso l'area di rigore, si trova il pallone di Santo Vito che calcia con sinistro e porta avanti il Trastevere, il numero 6 fa 1-0 al diciannovesimo minuto, dopo un'azione un po' fortunata, comunque 1-0 Trastevere, Tom ancora possesso Trastevere, qui Briatico cerca, ma non riesce a trovare ancora Daniele Crescenzo, grande protagonista della stagione passata, il numero 8 che qui strappa il possesso e preme l'acceleratore, Bertoldi in area di rigore, Bertoldi! Raddoppio il Trastevere, Matteo Bertoldi 2-0, invenzione di Crescenzo che strappa e serve il numero 7, e allora Trastevere 2, Termoli 0, Emiliano Massimo, poi carta, crossa, Alonzi non colpisce la sfera, rimane lì e c'è il miracolo di Uzzol questa volta, poi Moli, carta dà fastidio all'avversario, allora Alonzi in area di rigore, Alonzi col sinistro, carta che va col mancino, pallone fuori, sinistro al volo di Tortolano! C'è lì 1-1 con Massimo, mette il cross, deviazione, pallone in area rovesciata di Romano, velocemente la punizione da Massimo, poi arriva il cross, sul secondo palo, Bertoldi, la sfera ancora viva, Crescenzo sul muro dei difensori, compagno, lo ha Massimo di prima, Alonzi si gira, vuole andare lui, alzato il pallone verso Bertoldi, posizione regolare, il cross dall'altra parte, Crescenzo! Il 3-0 della Trastevere, sempre sull'asse, Bertoldi Crescenzo, assist del 7, gol dell'8, 3-0. Rischia l'arbitro, Carnevale, uno schema sul secondo palo, colpo di testa in area di rigore, a Termoli che segna l'1-3, e allora tutto riaperto su questo calcio piazzato, e sulla fascia, ne ha due addosso, si gira, eccolo ancora, Carnevale, che mette al centro, attenzione a Simone Conte che va a calciare, Semprini! Toccato da De Costanzo il pallone, poi messo in profondità, in prima Bertoldi, splendido il lancio, c'è Alonzi, in area di rigore, Alonzi! Crescenzo è ben piazzato, finta e passaggio. Poi attenzione alla corsa di De Costanzo, limite dell'area, il pallone per Scuderi, area di rigore, il suggerimento, dall'altra parte sporcato, quel tiro di carta! Occhiata al cronometro e Tribliche Fischio finisce qui la terza giornata di serie di girone F, il Trastevere supera il Termoli 3-1, reti di Santovito, Bertoldi e del numero 8 Crescenzo, a cui ha risposto poi il numero 14 avversario Smailai, Trastevere, che vince, sale a 7 punti in classifica.